Con 21 voti favorevoli e 5 estenuti, il Consiglio Comunale di Ravenna ha approvato l'atto di indirizzo sul pericoloso aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e rischi connessi, presentati in assemblea dal consigliere Alvarancisi, capogruppo di lista per Ravenna. Già discusso in commissione consigliare, la delibera, nata dopo le proteste e seguita dall'installazione dell'antenna 5G al Parco Montessori, chiede al Comune di Ravenna di opporsi sostanzialmente alla nuova legge sulla concorrenza che ha innalzato i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, in attesa di nuovi studi sulla tecnologia 5G, obbedendo al principio di precauzione e di diritto alla salute. Il voto del Consiglio Comunale di Ravenna potrà ora essere preso ad esempio da altri comuni. Prima dell'entrata in vigore della nuova legge, i limiti elettromagnetici vigenti in Italia fissavano in 6 volte al metro la soglia relativa alle esposizioni in luoghi adibiti alla permanenza umana per almeno 4 ore giornaliere, abitazioni, scuole, ospedali, luoghi di lavoro. Un limite giudicato cautelativo e frutto di un compromesso tra le esigenze di sviluppo delle telecomunicazioni e di minimizzazione dei rischi di esposizione. Per la Corte Costituzionale Italiana però l'imposizione di tali limiti può avvenire soltanto sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite organismi deputati, con la presenza quindi di relazioni medico-scientifiche che escludono i rischi. Da tempo organi di controllo internazionali denunciano una sottostima proprio di questi rischi, un dibattito che è andato ad inaspirsi con l'arrivo delle nuove tecnologie 5G, la nuova generazione di tecnologie mobile e con la transizione digitale sulla quale di fatto mancano studi. La proposta di deliberazione avanzata da Dalista per Ravenna quindi chiederà al Comune di Ravenna un'opposizione all'innalzamento dei limiti in attesa di più approfondita valutazione da certamenti medico-scientifici, evidenziando che nessuna ragione tecnica, tecnologica e economica possa giustificare un rischio per la salute. La delibera chiederà inoltre che l'amministrazione comunale sottoponga al Consiglio Comunale ogni valutazione su come affrontare sul piano locale direttive e disposizioni legate a questo tema, contrariamente a quanto avvenuto per il Parco Montessori.